In questo mio video mi voglio riallacciare un attimino ad un video di alcuni giorni fa in cui ho parlato dell'identità digitale. Mi riallaccio a quel video perché devo precisare anche altre cose. Che cos'è l'identità digitale? L'identità digitale è un'applicazione che partirà in via sperimentale i primi di marzo di quest'anno e entrerà a regime nel 2024. In questa applicazione saranno scaricate tutti i vostri dati personali, a cominciare dalla carta d'identità, passaporto, tessera sanitaria fino ad arrivare al vostro conto corrente. Una volta scaricata, ripeto, non potrete tornare indietro. Cercheranno di convincervi a scaricarla dicendovi che con questa applicazione potrete via online fare qualsiasi documento invece di recarvi magari in qualche ufficio pubblico. Quindi loro vi diranno che vi renderanno le cose molto più semplici e in questo modo cercheranno di farvi abboccare. Non abboccate, perché una volta scaricata voi non potrete tornare più indietro. Che cos'è in pratica, in poche parole, questa identità digitale? L'identità digitale è la versione aggiornata del Green Pass. Il Green Pass è stato un primo scalino. Ecco, volevano arrivare a questo. Attraverso questa identità digitale che poi si trasformerà piano piano in una, chiamiamola patente a punti, dove avrete, non so, 100 punti. Partirete con 100 punti, no? E ogni volta che voi farete un'infrazione oppure, non so, non pagate in tempo un bollettino, vi verranno sottratti due punti, tre punti. Prendete una multa perché non vi fermate al rosso, prenderete cinque punti. Direte di no ad un provvedimento obbligatorio governativo? Vi toglieranno 10 punti, finché i vostri punti non saranno finiti. E una volta finiti, praticamente, siete fuori, fuori dal sistema. Sarete annullati e naturalmente in automatico potranno anche bloccarvi il vostro conto corrente perché a quel punto non sarete voi a decidere di quello che è vostro, ma saranno loro in pratica. Vi ricorda nulla, non potrete né comprare e né vendere. A me mi ricorda qualcosa. Quindi vi esorto, non scaricatela. Non date retta a richiami delle sirene. Perché loro cercheranno solo di ingannarvi. Ormai abbiamo capito che lo Stato è il più grande nostro nemico.